Noi abbiamo chiesto di incontrare Draghi, l'abbiamo detto a quest'ora, se l'incontro non ci dovesse fare lo riterremo uno sgarbo nei confronti dei lavoratori che hanno sui testarne una comunicazione all'azienda di licenziamento, perché per noi Draghi è garante dell'avviso comune, sottoscritto con FinBus e Cingello e Cingello e Cingello. Quindi il tema adesso è di retrocedere da una dichiarazione di avvio di procedura da parte dell'azienda. E poi c'è un altro tema in chiuso, che Draghi deve intervenire nei confronti del bordo americano per far modificare la posizione. Per noi il Tampoli va riaperta per produrre lavatrici, perché ci sono tutte le condizioni per rimettere in produzione il sito di Bianchini e il garante deve essere il Presidente del Consiglio che non può consentire che una multinazionale sta al di sopra delle regole nazionali.